Dovrebbero essere se in totale le nuove passerelle installate dall'amministrazione comunale nei diversi punti del lungomare Federico II di Svevia. Le passerelle, come scrive l'assessore Romina Morselli sui suoi canali social, garantiranno alle persone che soffrono di disabilità la libertà di accesso e la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione. Questa è una delle priorità dell'amministrazione. L'avvocato Emanuele Maniglia, portavoce legale dell'Associazione H, si dice insoddisfatto perché le suddette passerelle non raggiungono però la battigia. Già ad aprile la nostra associazione aveva invitato gli organi competenti ad installare delle pedane sulla spiaggia. Proprio l'altro giorno l'assessore Romina Morselli ha dichiarato che i lavori sono in corso d'opera. Bene, noi interveniamo con spirito collaborativo per dare qualche suggerimento perché è vero che il Comune ha i propri tecnici con le proprie competenze, però io ritengo che il parere di chi vive il problema quotidianamente sia altrettanto utile. Ad esempio sul lungomare attualmente è installata una passerella per intenderci sita tra il pontile e l'ex Lido Eden dove in un primo tratto è ottima, è molto larga, è in cemento, però dovrebbe essere prolungata fino alla battigia dal momento in cui viene interrotta diversi metri prima. Abbiamo individuato anche altri punti dove poter installare queste pedane perché avere un singolo accesso alla spiaggia per i disabili significa ghettizzare i disabili e violare i principi sanciti dalla Costituzione. Invece il disabile, al pari di tutti gli altri cittadini, deve poter scegliere dove prendere il sole, dove andare a fare il bagno e come rilassarsi. Ieri primo luglio è partito puntuale il servizio del trasporto urbano che include una navetta dotata di pedano mobile per il trasporto dei diversamente abili che attraverserà il lungomare e raggiungerà anche i punti più importanti della città come il comune e il tribunale. Noi come associazione prendiamo atto dell'impegno e dell'interesse del comune. Ad esempio hanno comunicato che già da oggi è attivo il servizio del trasporto anche sul lungomare, usufruibile anche di aga costretto in carrozzina. Qualcuno potrebbe dire che questo è semplicemente un obbligo prescritto dalla legge ed è vero, ma è altrettanto vero che da anni ormai questo servizio è inesistente nel nostro territorio. Quindi onore al merito. Certo ci auguriamo che questo servizio non venga interrotto anzitempo. L'avvocato spera inoltre che la SIA TRAC proposta dal gruppo Rinnova e approvata il 20 giugno in Consiglio Comunale possa trovare al più presto una collocazione, anche se la stagione estiva è iniziata da un po'. Abbiamo sentito questa proposta, è una proposta ottima e anche ecologica. Certo mi rendo conto che con i tempi probabilmente siamo già in ritardo, però ovviamente quando noi sentiamo che ci sono queste proposte non possiamo che essere felici e accoglierla. Oltre alle SIA TRAC, ci sono altri strumenti magari da utilizzare, da installare in modo più veloce? Le sedie possono essere un ottimo strumento utile al disabile per fare anche il bagno perché non dobbiamo limitarci a far raggiungere al disabile la spiaggia ma dobbiamo dare la possibilità a questo anche di fare il bagno al mare.